Il miglior attore protagonista, qual è la mozione? Il miglior attore protagonista di opera prima, perché ci sono altre menzioni e quindi non voglio rubare a chi l'ha vinto. Sono molto contento perché è un'opera prima contenuta moltissimo, avendola anche coprodotta, che è senza nessuna pietà di Michele Alai, che è stato un film che abbiamo seguito tutti quanti come fosse un figlio, per cui è un bel riconoscimento dello sforzo fatto. Sono contento innanzitutto perché io di origine sono pugliese, poi ero qui al Petruzzelli venti giorni fa dove ho finito la tournée teatrale che ho fatto anche quest'anno, per cui mi sento abbastanza a casa. Sono contento, mi piace il fatto che ci siano festival diversi in Italia, che possono anche rendere la vita di un film che oggi è sempre più breve, un po' più lunga, che possono permettere alle persone che non hanno visto di poterlo vedere in situazioni come queste che riescono a concentrare molta presenza di pubblico, per cui per chi fa film è una cosa molto bella. Grazie. Grazie.